Un'aspra salita evolutiva. Perché dici che per te non ci sono maestri? Commento. Dico che per me non ci sono maestri incarnati, ci sono maestri disincarnati, i maestri immateriali. Perché? Perché i maestri incarnati sono come me, nella condizione umana, che è un'aspra salita evolutiva. E allora? Allora non ho bisogno di chi è ancora nell'illusione come me.